A Bolzano la scuola dell'infanzia costa alle famiglie più di 400 euro al mese. Quanto emerge dai dati di un'indagine condotta dalla Will. Vediamo il servizio. Frequentare un asilo nido a Bolzano può costare fino a 480 euro al mese. E' quanto comunica la Will a seguito dell'indagine condotta sulle scuole materne ed elementari del capoluogo. Una cifra per bambino che può scendere a 399 euro se si tratta di un asilo nido, mentre il costo della mensa scolastica si aggirerebbe intorno agli 81 euro. Qualcosa di più rispetto ad una media nazionale che parla di 327 euro mensili e 3.270 l'anno. 10 euro in meno, cioè 71 invece per la mensa. L'indagine in Alto Adige ha preso a campione una famiglia con circa 36.000 euro di stipendio pari ad un reddito ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, cioè 17.812 euro netti. La composizione del nucleo di riferimento invece è di due lavoratori dipendenti con figli a carico, ma il comune di Bolzano ha tenuto a precisare che la retta di frequenza per la scuola materna comunale va effettivamente da un minimo di 71 euro ad un massimo di 87, con riduzioni previste in caso di più figli a carico. Per ciò che riguarda gli asili nido della SSB invece il costo va da un minimo di 88 ad un massimo di 310 euro in base al reddito. Sempre secondo la nota dell'amministrazione cittadina, le tariffe aumentano in caso per il tempo prolungato, che va dalle 7 alle 18, e non superano comunque i 422 euro. Grazie. Grazie.